Due anni dell'attività delle case di comunità approvate con la legge di riforma sanitaria Lombarda è una buona iniziativa, quella portata avanti dalla SST Nord Milano con la fondazione Bauer e Crea che dà la possibilità di verificare in questi due anni quello che è stato fatto, l'opera anche delle attività sociosanitarie nelle case di comunità, è un buon lavoro e questo racconto ci rende anche orgogliosi di un percorso che è stato fatto anche con difficoltà che per oggi raccoglie i suoi frutti soprattutto per la medicina di prossimità. Il ringraziamento va alla SST Nord Milano, alla fondazione Crea e soprattutto al direttore generale Tommaso Russo che ha voluto fortemente anche questa iniziativa. Una mostra in collaborazione con la scuola di fotografia Bauer, 20 ragazzi che hanno frequentato le nostre case di comunità per circa due settimane facendone di questo lavoro l'oggetto della loro tesi finale alla fine del biegno. È un po' anche un tentativo credo coraggioso di invertire la narrazione, case di comunità vuote che non servono da riempire e qui possiamo apprezzare dal vivo con immagini fatte dai ragazzi che invece le case di comunità sono vive, funzionano e sono utili alla incertidanza e soprattutto a chi ha bisogno di servizi sociosanitari. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!